Salve a tutti e bentornati su Italian Esports Network, qua con voi Urkukan e dietro che vi presentano questa partita VCS European 2012. Abbiamo per questo game una special selezionata dal nostro amico Urkukan. I giocatori che si sfideranno in questa partita sono due grandissimi giocatori il nostro amico Epi Terran spawnato in basso a sinistra da Terran ovviamente di colore rosso del team Empire che si sfiderà contro il suo acerimo nemico Protoss in alto a destra col colore blu so che del team alternate su questa mappa che è Cloud Kingdom. Esatto sì e che possiamo dire di questi due giocatori beh uno dei due l'abbiamo già visto nel game numero 6 quindi vi invito a vedere anche quel game ma non abbiamo visto Soke quindi parlerei un po' più in dettaglio visto che i primi minuti di opening sono abbastanza noiosi. Soke è un giocatore Protoss di 25 anni tedesco ma io credo che abbia delle origini italiane perché il suo nome all'anagrafe è Giacomo quindi insomma qualche cosa dovrà esserci in lui di italiano. Comunque è un giocatore dicevo abbastanza interessante perché è stato uno dei rappresentanti del team tedesco nello Starcraft Broad War in Corea del WCG 2002 quindi stiamo parlando di 10 anni fa quindi un giocatore di lunga data per quanto riguarda i giochi tergati Blizzard ma recentemente l'abbiamo visto classificarsi terza quarta posizione nell'Intel Extreme Master Season 7 in quest'anno 2013 e nel 2012 nell'ESL Pro Series sempre in terza posizione quindi un giocatore Protoss direi abbastanza abile e con una buona esperienza per quanto riguarda i game strategici di targati Blizzard. Mentre per Happy abbiamo già visto ma sinteticamente possiamo dire che è un giocatore russo del team Empire, uno dei team forse non troppo famosi ma sicuramente che ha fornito molti giocatori per il team FX Open, infatti mi pare che sono 7 i giocatori che sono stati traghettati da questo team Empire verso quell'altro. E tra l'altro un team molto interessante perché dei 6 membri di cui che ne fanno parte ben 4 sono Terran quindi insomma scelta abbastanza ultimamente abbastanza poco florida per i giocatori pro gamer perché di solito optano molto più per Zerg o almeno per Protoss. E un'altra nota interessante sul team Empire è che se non erro ha anche una team al femminile, c'è una squadra che si allena a giocare a StarCraft composta da soltanto donne, quindi insomma sarebbe interessante anche vedere i risultati che portano a casa. Sarebbe interessante vedere e basta però vedere le partite giocate dalle donne forse soltanto in Corea però ci sono team al femminile ma comunque Comunque possiamo passare al game o è altro da aggiungere? No mi pare che sia abbastanza insomma Allora possiamo notare da una parte il nostro amico Protoss è partito per un gate expand con un gas probabilmente per fare la ricerca del centro cibernetico e per produrre questo stalker tra poco immagino aggiungerà il secondo gas mentre cerca di riempire, saturare la sua seconda espansione, la sua prima espansione, mentre dall'altra parte abbiamo una 1-1-1 con un solo gas, nessuna espansione, vediamo per ora solo 5 marine come unità di difesa, probabilmente reggeranno al push iniziale di stalker e zelotta che stanno per avvicinare, speriamo. Sì e intanto devo dire che il marine di scout mandato da Eppi ha visto appunto l'espansione di Soke è una scelta un po' azzardata da parte di Soke perché non ha controllato a sua volta se Eppi si è espanso o meno perché appunto Eppi ha fatto una chiusura totale quindi non ha potuto vedere Soke cosa stesse facendo ed è una scelta un po' pericolosa perché secondo me investire così tante risorse per un Protoss ai primi minuti di gioco può esporlo a un early push che potrebbe essere devastante perché ricordiamo nei primi minuti il giocatore di Terran possono accumulare molti marine quindi una massa marine supportata magari da dei tank o da delle benshi possono essere decisamente fastidiosi. Intanto vediamo questi marine che stanno cercando di distruggere lo stalker che però riesce a chitare questi marine per un po' e alla fine decide di scappare perché non ce la può fare comunque contro tutti questi marine comincia a sparare a marine che si trova a Zelnaga, il marine si muove giustamente ed evita di essere ucciso, gli altri marine vengono messi in una medivac e si preparano ad essere droppati probabilmente i main del Protoss che però ha posizionato un pilone con cui potrà vedere un po' più presto rispetto a quanto avrebbe visto semplicemente con i due gas per dargli il visuale. Intanto dalla parte opposta vediamo tre che si stanno dirigendo verso la natural e quindi ci sarà un attacco combinato da un drop sulla main e un attacco sulla natural che però è stato già prontamente counterato da due stalker e due sentry, intanto il drop sulla main coglie in fallo alcuni probe che vengono distrutti ma ci sono già due persecutori che possono forse tenere testa a questo manipolo di marine che per ora non hanno nessun upgrade quindi non hanno neanche lo steampack quindi diciamo che sono abbastanza vulnerabili anche dall'attacco ora delle probe. Infatti ora Epi decide di focusarsi sulle sonde per riuscire a fare il massimo danno economico possibile. Sì ma vengono subito warpati altri due persecutori quindi credo che non ci sia più spazio per ulteriori attacchi per Epi che infatti è costretto a ripiegare. Intanto vediamo la alien sopravvissuta all'attacco sulla natural ora si dirige verso la Torex Naga probabilmente resta di lì di vedetta. Vediamo che cosa ha intenzione perché Epi non ha ancora fatto alcuna espansione quindi probabilmente conterà di fare un game al momento solo su una base ma molto probabilmente è rischioso perché non avendo lo stesso income di un toss su due basi deve necessariamente fare dei push continui per distrarre quantomeno il suo avversario. Credo che almeno sia la tecnica migliore che si possa fare. Intanto in questo momento ha messo la ricerca per la tecnologia da serio per i carri. Vediamo sta producendo anche una Benshi intanto è passato con due gas quindi si può permettere sicuramente. Intanto c'è una Benshi che sta arrivando nella prima espansione di Soke che però vede uno Stalker lì messo pronto a counterare la Benshi quindi si emette ad attaccare i nostri poveri, le nostre povere senti questa Benshi distruggendo una mentre l'altra usa lo scuro guardiano per evitare di prendere troppi danni. Intanto c'è questo observer che vede la Benshi scappare Sì ma ormai non credo che possa fare molto perché le Benshi sono efficaci contro i Protoss nei primissimi minuti gioco quando appena fatto l'1-1-1 e magari ricercato anche il clock si può provare a cogliere in fallo il giocatore Toss che non ha abbastanza risorse per warpare persecutori ma in questo momento ha abbastanza persecutori per coprire entrambe le linee minerali quindi la Benshi non ha più tutta questa efficacia che avrebbe avuto all'inizio ma vediamo comunque un esercito da parte di Eppi già abbastanza guerrito con due tank e arriva un all-in con tutti gli SCV praticamente presi dalla linea mineraria e buttati sulla linea di combattimento intanto lo Psi siamo 84 pari quindi insomma penso che Soke dovrebbe avere più unità, no Eppi scusate dovrebbe avere più unità visto che ha meno SCV rispetto al suo avversario i persecutori in questo momento cercano di portarsi a casa qualche marine sprovveduto ma mi sembra che stiano più prendendola peggio tra l'altro la siege completata il nostro amico Terran può piazzare semplicemente i carri e evitare che le unità pronto si avvicinano per attaccarlo però intanto anche il grosso uscito questo potrebbe essere un grande problema per Eppi che continua ad arrasare con i marini, a pusciare con i marine mentre gli SCV e i tank sono appena stati liberati dal forcefield che era stato messo in antecedenza dalla Sentry ora i tank si piazzano e sono pronti a sparare su tutte le sonde che si trovano ancora sulla prima espansione del Protos direi che è una posizione un po' difficile per Soke perché ha poche unità ancora e non ha abbastanza unità per difendere adeguatamente il colosso che infatti cade in questo momento gli SCV cercano di tankarsi più danni possibili da parte del probe e dei persecutori e ora i marine fanno il lavoro sporco, in avanti distruggono un pilone ora si concentrano sul Nexus, non so che cosa potrebbe inventarsi ora Soke perché sta facendo un secondo colosso che forse è l'ultima sua speranza di riuscire a fare qualcosa intanto la ricerca del lancio termico estese è quasi stata completata vediamo che i persecutori da sopra il cliff cercano di portare un po' di danni ma la visibilità data dalle benshi riesce a far attaccare anche i marine e gli stessi tank che ora sono diventati 3 il colosso è stato ucciso però il secondo colosso è stato ucciso i tank si piazzano sempre meglio proprio sotto il cliff per poter avere la visuale data dalle benshi e riuscire a distruggere le unità nemiche sebbene non siano molto esposti questi tank ancora Wallad nuovamente tutte le probe Soke ma non credo che sia la mossa disperata cerca in qualche modo di sopravvivere ma non c'è molto che possa fare cade un tank ma sono rimasti praticamente soltanto gli SCV a over riparare tutte le strutture tutte le unità MEC del Terran che ora si concentra contro gli ultimi due persecutori rimasti ne cade uno, ora penso che Siam che per cadere il secondo non ha più molta possibilità so che in questo momento credo che il GG sia a momenti infatti arriva in questo momento soltanto 3 di Psy contro 46 di Epi una giocata molto molto particolare perché comunque abbiamo visto Epi cercare di pushare velocemente un Protoss che appunto come avevo detto all'inizio si è espanso quindi ha perso la possibilità di costruire gate e unità per difendersi forse è una scelta un po' azzardata di Soke ma in ogni caso Epi è stato abbastanza bravo è stato bravissimo perché comunque con una build con tank e Benshi a questo minutaggio di gioco a questo punto del gioco è veramente molto rischiosa e io sinceramente avrei pensato che non ci avrebbe fatta con questi tank perché comunque i Ptoss sono unità corazzate non resistono come un immortale però resistono comunque abbastanza ai colpi dei tank io fossi stato nel Protoss avendo visto i tank non so se li aveva visti un po' prima comunque avessi visto i tank si li avevi visti prima perché aveva l'observer comunque nella base dell'avversario avrei piuttosto optato per un colosso e un immortale per comunque riuscire a canterare un po' questi tank ma so che al VCS io sono a casa mia tu ancora non ci sei andato magari quando ci andrai commenteremo anche le tue partite io penso invece che forse Soke avrebbe dovuto optare più per degli zeloti per tankarsi più danni possibili e cercare di migrare al meglio i persecutori per appunto uccidere Marine e i tank stessi ma il problema del colosso sinceramente all'inizio è che non aveva le lance termiche stesse ancora ricercate perché è stato un push veramente molto veloce quindi il Protoss non ha fatto in tempo neanche a finire la ricerca dei lance termiche stesse e il colosso senza lance termiche stesse è molto soggetto all'attacco appunto del Massa Marine perché riesce tranquillamente a distruggere perché sappiamo bene che soffre molto le mass unit, gli attacchi da parte di mass unit no io direi che è stata una giocata molto interessante bravo sia Soke che Happy forse un po' più Happy perché è riuscito a portarsi a casa la vittoria sì ma per il resto direi che anche Soke ha cercato di difendersi come poteva bene questa era la seconda e ultima special per quanto riguarda il World Championship Series Europe 2012 Finals con questo praticamente chiudiamo la sezione delle special e vi lasciamo soltanto all'ultimo video che riguarda questa serie cioè il numero uno, il miglior game al nostro giudizio almeno al mio giudizio il bestest il bestest di tutto che probabilmente sarà castato i prossimi giorni quindi non vi perdete quest'ultimo match e ovviamente per chi non l'ha ancora visto riguardatevi tutta la selezione perché sono stati dei game molto interessanti se non l'hanno visto non se lo riguardano se non l'hanno visto se lo guardano è diverso chi vuole riguardarselo può riguardarselo chi non l'ha guardato se lo può guardare insomma fate un po' come mi pare noi basta che ci siano le views sì, noi li abbiamo castati per voi quindi insomma è tutto brodo in più come si dice in questi casi e allora è tutto da Urkukan e Ieto ciao a tutti ragazzi alla prossima, ciao